Loro sanno che quando io ho la palla posso sempre cercarli e trovarli, quindi sicuramente la voglia di vincere ha fatto sì che alcune cose che magari le ultime settimane non venivano sono venute. Una prestazione complessiva sia a livello di atteggiamento che di carattere di tutta quanta la squadra, siamo riusciti a trovarci l'uno con l'altro come non succedeva da un po', probabilmente questo ci ha dato anche a livello di punti un qualcosa in più, ma soprattutto di energia, di andare tutti verso uno stesso obiettivo. Personalmente mi sono trovato anche molto bene con il nuovo Iniesto, ci siamo subito capiti dall'inizio della settimana. Allora io penso che possiamo tranquillamente vincere questa partita, ovviamente è una partita secondo me completamente diversa, noi veniamo da una buona vittoria ma consapevoli anche che potevamo fare molto meglio e che dobbiamo migliorare. Loro sono una squadra senza pensieri, senza problemi, senza pressioni, sono una squadra giovane che adesso hanno aggiunto anche Marcon che è un buonissimo giocatore. Quando giocano in casa sono molto più intensi e hanno molta più fiducia che quando giocano fuori casa. Quindi una partita da affrontare col cortello fra i denti perché siamo noi quelli che abbiamo bisogno più di loro. Credo che se andiamo con l'atteggiamento giusto possiamo portarci questi importantissimi punti a casa.